Buongiorno Corriere, oggi è mercoledì 29 settembre. Da Roma arriva lo stop alla legge varata due mesi fa dal governo regionale, poi approvata dall'Assemblea regionale siciliana per consentire all'azienda idrica Comuni Agrigiantini di disporre della liquidità necessaria per cominciare l'attività. Nel controllo di legittimità degli atti licenziati dall'ARS, il governo nazionale ha invitato l'esecutivo guidato da Musumeci e la stessa ARS a riformulare il provvedimento che stabiliva l'assegnazione di 10 milioni di euro ai comuni che fanno parte della società consortile, da trasferire poi nelle casse di AICA. La brutta notizia che riguarda il futuro del servizio idrico è stata per fortuna smorzata ieri sera dall'annuncio del pagamento dello stipendio del mese di agosto a quasi tutti i lavoratori di AICA, tranne i dirigenti. È stato il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Alfonso Provvidenza, a rasserenare i lavoratori che con i loro sindacati stavano predisponendo lo stato di agitazione. Con gli incassi da parte delle bollette già emesse, ha detto Provvidenza, si potrà pagare anche un acconto all'azienda elettrica che fornisce energia ai nostri impianti. Adesso spero che i parlamentari, conclude Provvidenza, trovino in tempi brevi una soluzione per darci una mano. Oggi pomeriggio, convocato dal prefetto Maria Rita Corciufa, ci sarà un vertice con sindacati CDA e sindaci. Covid e gli attuali positivi in provincia sono 358. La curva epidemica continua a scendere grazie alla differenza tra nuovi contagi e guarigioni. Quest'ultime, già da diversi giorni, risultano superiori ai nuovi casi di positività. Il report dell'Asp di Agrigento registra 5 nuovi positivi e 43 guarigioni. Anche i ricoveri seguono l'andamento di discesa. Gli attuali ospedalizzati sono 26, 2 in terapia intensiva. Sciacca e positivi sono 8, ribera 13. Approvata dalla Giunta Municipale di Sciacca la delibera del progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione di un'oasi per il ricovero di cani e gatti redatta dal dirigente del sesto settore Aldo Misuraca. La realizzazione è prevista in località Maraga, in un terreno di proprietà comunale a 13 chilometri dal centro abitato di Sciacca, un terreno di 60.000 metri quadrati. L'importo complessivo dei lavori previsti è di 6.700.000 euro. Per finanziarli bisogna trovare risorse da bandi nazionali e comunitari. Originale iniziativa del comune di Sciacca, la biblioteca Aurelio Cassar, lancia un modulo online chiedendo consigli per l'acquisto dei libri che saranno acquistati con il nuovo finanziamento di 9.200 euro ottenuto dal Ministero della Cultura. Ogni lettore potrà suggerire un libro da acquistare ed avrà tempo fino al 10 ottobre. Saranno esclusi i titoli già presenti in catalogo e i testi scolastici universitari. Calciolo Sciacca, dopo la squillante vittoria di domenica scorsa contro il Profavara nel campionato d'eccellenza, affronterà oggi pomeriggio il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Alle 15.30 per il match di andata degli ottavi di finale di questo torneo sarà il Gurrera Lacragas contro cui l'Unitas Sciacca ha già giocato in campionato nella partita di esordio perdendo 3-1. È tutto, grazie e buona giornata.